Allora, le facciamo due chiacchiere? Ma sì, dai. Allora, dunque, io mi chiamo Stefania. No, scherzo. Allora, prendiamo 150 grammi di farina. Queste sono la versione light delle chiacchiere. Un uovo e circa 120 di yogurt greco. 120, no, yogurt greco, no, yogurt normale, bianco. 120, guardate la consistenza, così vi rendete conto se può bastare 120 o leggermente di meno, ma più o meno dovrebbero essere queste le dosi. Ok? Questo è l'impasto pronto. Lasciamolo riposare un pochino, almeno una mezz'oretta, in frigorifero. Poi lo riprendiamo e iniziamo a spianarlo. Ecco qua. Spianiamo tutto col mattarello. Ne viene fuori una teglia, una leccarda di chiacchiere. Vedete? Lo fate non troppo fini, perché comunque vanno cotte nel forno. Se volete c'è anche un'altra chicca. Potete sbollentarle leggermente e metterle anche nella friggitrice d'aria. Vengono una meraviglia. E se posso, anche forse un pochino meglio, perché vengono ancora più croccanti. Buone, buone. Quindi, leccarda da forno. Io ho fatto due versioni, però quella che vedete adesso è quella del forno. Vedete come fanno le bolle, 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 bolle? E diciamo che a 180 gradi, per circa una decina di minuti, le chiacchiere sono pronte. Spolverizzate con zucchero a velo. Et voilà! Vi aspetto alla prossima. Ciao! Ciao!